Due giorni fa il Tribunale di Aosta ha depositato le motivazioni della sentenza di primo grado con cui sono stati condannati personaggi d'indrangheta appena anche molto robuste, molto significative. La cosa che dovrebbe a nostro avviso far riflettere tanti valdostani sul fatto che ci sia l'indrangheta e che ci sia l'indrangheta non lo dice il Presidente di una Commissione parlamentare d'inchiesta né una deputata locale ma lo dice una sentenza sebbene di solo primo grado già pronunciata dal Tribunale di Aosta. Però io sono qui con carte perché volevo farvi un resoconto di carattere storico. Questa è la relazione che ha seguito la missione effettuata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Rosi Bindi nell'ottobre del 2017. Ci sono cose interessantissime di cui poi magari qualcuno potrà avere informazioni dalla stessa Elisa perché Elisa è sempre a disposizione di chiunque la incontri non solo a Roma ma anche in Val d'Aosta per avere informazioni perché è necessario se si vogliono sconfiggere le mafie conoscerle. La vera questione che è emersa a tutto tondo grazie a quest'inchiesta Genna cui seguirà un'altra inchiesta e lo possiamo dire perché la cosa ormai è finita sui giornali in quanto a stralcio alcune notizie sono state anche pubblicate dai magistrati sono state notificate dai magistrati e che dopo che nel gennaio del 2019 arriva la bomba giudiziaria con l'inchiesta Genna con cui vengono arrestate 17 persone fra cui un consigliere regionale Marco Sorbara ma anche l'assessore ai lavori pubblici del comune di San Pier Monica Carcea pertanto ottenendo in conseguenza di quest'inchiesta lo scioglimento e poi il commissariamento per infiltrazione mafiosa del primo comune valdostano il comune di San Pier il dato paradossale che voglio sottolineare a tutti e di cui ben pochi stanno parlando e scrivendo è che in Val d'Aosta per regole che la Val d'Aosta stessa ha essendo una regione a statuto speciale il presidente della regione mandato politico viene a coincidere con il prefetto mandato amministrativo per cui il presidente della regione viene a svolgere funzioni del rappresentante del governo sul territorio e con evidenze di un certo tipo perché se il presidente della regione viene eletto grazie ai voti dell'andrangheta e poi presiede il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica beh qualche problema ci sarà per fortuna al questore a seguito di norme datate 1982 è stata demandata la trattazione delle misure preventive antimafia però ecco vorrei continuare un pochino a darvi alcune notizie nelle motivazioni scritte dalla magistratura austana si legge che almeno 5 ex presidenti della regione hanno avuto contatti con il locale di indrangheta presente ad Aosta almeno 5 ex presidenti il tribunale di Aosta scrive anche è singolare ed inquietante come degli ex presidenti di regione si rivolgano a pregiudicati che gestiscono il mercato del voto mi rivolgo a voi amici valdostani è notizia di ieri quanto è avvenuto alle ultime elezioni comunali a Reggio Calabria se volete prevenire certi fenomeni lo dovete fare ora e non fra 20 anni quando sarà già troppo tardi e andatevi a leggere che cosa sia avvenuto alle ultime elezioni comunali appunto a Reggio Calabria i nomi di ex presidenti di regione che sono coinvolti in Genna ma poi anche in Egomnia sono Vieren, Fosson, Marchi e Testolin ci sono però anche due consiglieri regionali Borrello e Bianchi e questi signori almeno in due casi sono ancora presenti in consiglio regionale per cui fino a prova contraria in assenza di sentenza passata e ingiudicato dal punto di vista penale nessuno è condannato in via definitiva ma la politica deve fare un salto di qualità e deve sposare la virtù della prudenza con la prudenza quantomeno l'indagato dovrà essere il più possibile lui stesso a promuovere trasparenza massima sui suoi atti sulle sue proposte emendative su tutto ciò che fa se voi andate a prendere la relazione un ex componente della commissione chiedeva di conoscere quanti soldi pubblici fossero stati spesi in gare ad evidenza pubblica oppure attraverso affidamenti diretti perché se la politica controllata ahimè non lo possiamo escludere dalla criminalità organizzata di stampo mafioso gestisce soldi per favorire aziende amiche allora il problema si pone però adesso lascio la parola ad Elisa perché è Elisa che deve aggiungere molto di importante sì grazie Nicola come diceva lo stesso Nicola appunto il processo che ci fu ad Aosta a settembre le cui motivazioni sono state depositate qualche giorno fa è un processo importante perché a livello giudiziario si accerta la presenza dell'andrangheta in Valle d'Aosta ma la presenza dell'andrangheta in Valle d'Aosta è un fatto storico che risale ben al 1982 con l'attentato poi non riuscito del pretore Selis e ben sette mesi dopo ci fu anche l'attentato e la morte del procuratore Bruno Caccia tutto questo porta a delle indagini che stavano effettuando effettuando sul casino di Saint-Vençane e sul riciclaggio di soldi della mafia calabrese quindi dell'andrangheta ma anche della mafia catanese molte persone durante gli anni, questo è da dire hanno fatto presente la presenza delle infiltrazioni mafiosi in Valle d'Aosta persone che sono state sempre taciute e sono state sempre emarginate dalla società e ridicolizzate anche queste persone coraggiose adesso bisogna dire che hanno avuto ragione e anche attraverso le loro denunce anche attraverso il lavoro di Libera Valle d'Aosta che si è costituita parte civile nel processo di Genna queste cose sono venute a galla ma la cosa principale è che in Valle d'Aosta non ci sono attentati non ci sono forme violente di reazioni dell'andrangheta o meglio ci furono state tanto tempo fa ma adesso non ci sono adesso l'andrangheta influenza la politica non la influenza soltanto incide anche nelle sue decisioni certo come ha detto Nicola è una sentenza di primo grado ma è una sentenza importante e dopo Genna in seguito a Genna anche durante questa inchiesta se ne sta sviluppando un'altra di pari passo l'inchiesta Geo e Gomnia che tratta appunto del voto di scambio politico mafioso ed è appunto su questa inchiesta quando verrà conclusa che si dovranno trarre le conclusioni già adesso sono conclusioni importanti a cui siamo arrivati attraverso il processo Genna perché adesso non si può dire non lo dice Elisa Tripodi non lo dice neanche Nicola Morra lo dice una sentenza lo dicono dei giudici che la mafia vuole occupare i posti alti delle istituzioni democratiche della Valle d'Aosta questo è un attacco della criminalità alla democrazia ma la cosa più importante anche da sottolineare e su cui io mi batto da inizio del mio mandato è la separazione delle cariche delle cariche di presidente della regione da quella del prefetto questo è un unicum in tutta Italia la Valle d'Aosta sebbene è una regione a statuto speciale ha questo unicum amministrativo fa parte della sua storia è vero è un qualcosa che ci arriva dal 1945 da un decreto luogotenenziale ma la società va avanti la società cambia, muta e così devono cambiare anche le sue forme istituzionali le sue forme di garanzia per i cittadini di garanzia di sicurezza per gli stessi cittadini ma anche per lo stesso territorio quindi io chiedo questo è un appello che faccio anche alla comunità di stringersi anche attorno a me di stringersi anche attorno ai consiglieri regionali e di cercare assieme una soluzione legislativa una soluzione che però porti alla separazione di queste due cariche perché è importante tutelare la sicurezza dei cittadini e allontanare la criminalità organizzata dalle istituzioni dal luogo e delle decisioni democratiche dove devono essere trasparenti noi adesso abbiamo un'emergenza covid da affrontare questo vuol dire che ci saranno anche soldi da investire il problema delle infiltrazioni mafiose il problema che l'andrangheta attenti attraverso i suoi tentacoli questi soldi è reale quindi noi ci dobbiamo tutelare dobbiamo tutelare i cittadini dobbiamo tutelare gli investimenti a favore dei cittadini a favore del nostro territorio oggi l'edizione aostana della stampa dà risalto appunto al fatto che la politica valdostana sia stata scossa da questa sentenza però io vorrei tornare ad un argomento che sia io che Elisa abbiamo affrontato in Val d'Aosta il presidente della regione riveste anche la carica di prefetto fra l'altro mi ricordava Elisa poc'anzi che proprio su questo tema in commissione affari costituzionali la deputata Tripodi ha presentato una risoluzione al fine di immaginare scenari istituzionali diversi per evitare conflitti di interesse che già di per sé sarebbero gravissimi ma se poi ci si aggiunge l'ipotesi che il presidente della regione nonché prefetto sia anche in qualche modo controllato dall'andrangheta allora l'ipotesi diventa avvilente voglio però mostrarvi le parole di Massimiliano Atelli che è il procuratore della Corte dei Conti della Val d'Aosta quindi è il supremo magistrato contabile sarebbe il caso di considerare l'opportunità di separare le due cariche perché il controllore non può essere la stessa persona del controllato e viceversa e la stessa Alessandra Danieli giudice dell'udienza preliminare di Genna ebbe a scrivere la locale di indrangheta di Aosta ha un obiettivo criminoso ben preciso prendere il potere politico in tutta la regione perché perché per quanto vi sia stato un drastico calo della spesa pubblica regionale in Val d'Aosta per cui si è passati dagli anni pre-crisi 2008-2009 da 1 miliardo e 600 milioni di euro di spesa della regione a circa 900 milioni di euro poco più beh purtuttavia se questi soldi vengono gestiti da uomini che hanno avuto voti attraverso la presenza incisiva brutale delle indrine valdostane beh allora calma ragioniamoci e domandiamoci se non sia il caso di assecondare questa risoluzione promossa da Elisa Tripodi affinché si immagini un diverso modo di controllare l'attività della politica perché compio della prefettura e fare in modo che la politica se ne stia all'interno del suo mondo senza esondare e se purtroppo la politica viene anche ad assumere ruoli amministrativi di controllo beh allora il problema c'è e mi raccomando amici valdostani innanzitutto un plauso a chi si è costituito parte civile perché anche questo è un segnale che va inviato e poi non pensate che non si debba ragionare di queste cose altrimenti quello che vivrete fra vent'anni sarà quello che si sta adesso vivendo in tante altre parti del paese che pensavano di essere immuni pensate anche all'Emilia che ha scoperto con l'indagine Emilia che per numero di imputati ha visto svolgersi il processo secondo soltanto al maxiprocesso di Falcone a Palermo alla fine degli anni Ottanta ecco pensate all'Emilia quando si è svegliata ha capito che tante cose non andavano quindi attenzione prudenza e lavoriamo all'Emilia